ciao ragazzi e ragazze è da un po che non metto qualche video siccome dice il titolo c'è caldo ma non caldo caldo affoso domani ammettono più caldo ancora io sono contento sono nella mia tenuta estiva di solito uso la canottiera non so se ve l'ho già detto ma c'è caldo non fa solo caldo ma si soffoca non si respira e come terzo è soffocamento come dice una canzone di viaggio che dirvi lavorare fuori con queste temperature insomma non è il male è peggio è uguale quando è l'inverno ma comunque l'inverno lasciamolo stare perché è un altro è un altro discorso l'inverno fa freddo ma non freddo fa freddo quando si lavora fuori ma l'ho detto prima è un altro discorso adesso non so se ve l'ho detto ma fa caldo cavolo se fa caldo va bene grazie per attenzione volevo solo avvisarvi che c'è caldo qui da me ma penso anche da voi ciao